Bentornati! Oggi vedremo un'altra maglia del campionato inglese, quella del Tottenham, la seconda maglia del Tottenham, in versione FUN, quella dedicata ai tifosi. Il kit da trasferto del Tottenham 2223 è stato lanciato introducendo un design vivace e promosso utilizzando lo slogan Dare to do bold. La maglia ha un design moderno ma semplice, combina una base blu astro viola con maniche nere e un logo bianco. Ciò che spicca è il collare Volt. Aya è il main sponsor, mentre Cink è sulle maniche a sinistra. Entrambi i loghi degli sponsor sono bianchi e si adattano al resto del design. Dal punto di vista del modello, la maglia utilizza il nuovo design Nike 2223, con il colletto come caratteristica distintiva. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglia di plastica. Su questa maglia ho letto diverse recensioni non positive, ma devo dire la verità? A me non dispiace, anzi, nella mia personalissima classifica questa prende quattro stelle. Una bella maglia, tra l'altro questo fluo gli dà quel tocco in più veramente speciale. Qui in alto vedete il prezzo che aggiungere se non veramente bassissimo e vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia e un link per ottenere un buono da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare la maglia. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quello che vedete è una taglia media della versione FUN!